Katiuscia di figlia, 42 anni, canto. Una cantante. Sì. So che c'è il tuo fratello che fa pure il coach. Davvero, di famiglia. E' un insegnante quindi? Sì, è stato anche nei vari percorsi il mio insegnante, sì. Com'è il rapporto fratello-svel? Fantastico. Cioè, vabbè, noi ci amiamo in maniera particolare, quindi sì. Io canto di tutto, sì, più che altro pop, italiano. Ma vivi di questo lavoro? Allora, io per un periodo ho vissuto di questo lavoro, poi a un certo punto ho messo la testa a posto. In che senso? In che senso che è un lavoro? Eh sì, è un lavoro che comunque oggi va bene, domani no. Si sa, certo. Quindi, insomma. Che ragazza fratello che c'è? Nel suo, ti parlo nel suo, di lavoro, molto attento, molto bravo, con 460 gradi. Non è possibile, io non ci sto. È troppo stupido quello che fai. Ti prego, non andare via, per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari, sì, ma poi ti butta via. Via dalle mie mani, c'è un deserto senza fine. Tornami nel cuore che si straccia il mondo intorno a me, ruggine di vento, prigioniero dentro la mia mente. Via dalle mie mani, c'è un deserto senza fine. Grazie. Via dalle mie mani, c'è un deserto senza fine. Grazie.